300 bovini, 20 mandriani, 180 chilometri a cavallo, un tuffo indietro nel tempo all'aria aperta, sotto il sole e le stelle immersi nella natura, da San Marco in Lamis, in provincia di Foggia, ad Acque Vive di Frosolone. Partita la transumanza lungo gli antichi tratturi, l'antica autostrada di Mandri e Greggi che si concluderà sabato. Una pratica che ha caratterizzato le nostre terre e ne ha rappresentato per millenni economia, cultura e tradizione. I circa 300 bovini di razza podolica della famiglia Colantono di Frosolone tramuggiti lentamente. Vengono portati dai pascoli pugliesi fino alla montagnola molisana. È l'unico esempio di transumanza bovina di tipo orizzontale ancora attiva in Italia e forse in Europa. Ci tengono a sottolineare gli organizzatori ancora oggi come in passato è espressione diretta di quella civiltà agropastorale che per secoli è stata la fonte del sapere dell'economia dei territori rurali dell'Italia meridionale. La carovana della transumanza dopo sei mesi nel pianoro pugliese il rientro in regione dei bovini dei Colantuono nell'azienda di famiglia Frosolone dove c'è l'altra metà dell'attività. Casari e mandriani legati alle tradizioni Carmelina Colantuono è stata scelta come simbolo del Molisea Expo di Milano. Anche Abruzzo, Puglia, Campania e Basilicata così come altre regioni europee vogliono avviare un innovativo modello di sviluppo in ambito rurale per valorizzare la civiltà della transumanza e i tratturi con lo scopo di ottenere per la transumanza e i tratturi riconoscimento di patrimonio dell'umanità da parte dell'UNESCO. Ieri pomeriggio la partenza della transumanza con l'arrivo a San Paolo Civitate e sosta notturna sulle rive del Fortore sul tratturo L'Aquila Foggia. Oggi in serata l'arrivo a Santa Croce di Magliano attraversando il territorio di Serra Capriola. Domani all'alba la partenza per la località femmina morta lungo il tratturo celano Foggia attraversando Bonefro, San Giuliano di Puglia, Sant'Elia, Pianisi, Ripa, Bottoni, Monaciglioni e proseguendo per Campolieto, Matrice, Campobasso fino a Ripa Limosani dove ci sarà la sosta notturna al santuario della Madonna della Neve alle Quercigliole. Sabato alle 5 l'ultimo tratto con i bovini che attraversano il Biferno risalendo verso Castro Pignano e poi proseguendo per Torella del Sagno, Molise fino al centro storico di Frosolone direzione Acquevive sui Pascoli Montani.